Non si ferma il mercato del Pescara che ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dalla Lazio del centrocampista classe 95 Luca Crecco che potrebbe fare il suo esordio anche domenica prossima al Bentegodi di Verona in occasione della gara di Coppa Italia con il Chievo ma scendere anche in campo domani al Rubens Fadini di Giulianova in occasione dell'amichevole dei biancazzurri con i giallorossi. Sempre sul fronte arrivi il Pescara è alla ricerca di un terzo portiere con Simone Farelli sempre nel mirino del DS Luca Leone. In uscita Cristian Bunino centravanti cresciuto nel settore giovanile bianconero della Juventus e poi girato più volte in prestito prima della cessione a titolo definitivo agli abruzzesi a gennaio. Bunino potrebbe tornare in casa bianconera per andare a rinforzare la formazione under 23. Se dovesse partire potrebbe così restare al Pescara Andrea Cocco ma occorre comunque sfoltire l'organico. Sono in lista di partenza diversi calciatori. Per l'arrivo poi di un eventuale difensore bisognerà cercare prima di cedere Michele Fornasier, il giocatore di Vittorio Veneto. Era stato seguito dagli olandesi del Fortuna Sittard ma poi la trattativa è naufragata. La società abruzzese dovrà sfoltire l'organico cedendo oltre a Fornasier diversi giocatori fra cui centrocampisti Selasi e Proietti, le punte Luca Forte e Marco Sansovini e l'esterno d'attacco Kevin Yamga. Potrebbe invece restare alla corte di pillone il terzino Cristian Ventola. Nelle prossime ore sono intanto attesi a Pescara Capone e Melegoni. Capone in particolare raggiungerà l'Abruzzo dopo aver firmato il prolungamento del contratto con l'Atalanta, società proprietaria del suo cartellino. Lutto anche in casa bianca azzurra per la scomparsa di Gustavo Giagnoni, l'allenatore con il Colbacco che fu tecnico di Milan, Torino, Roma, Mantova, Bologna, Cremonese, Cagliari, Perugia, Udinese, Palermo e anche del Pescara nella stagione 79-80.